nuovo appuntamento con l'informazione di oggi a nord est sequestro record di trecentosessanta mila mascherine chirurgiche non conformi per un valore di circa centottantamila euro da parte di militari della guardia di finanza della tenenza di Muggia il blitz durante i controlli dei valichi di confine che ha permesso di scoprire un trasporto illecito di mascherine dalla Slovacchia verso l'Italia presso il valico di confine di Fernetti Trieste la guardia di finanza di Rovigo ha denunciato dodici persone per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza i buoni della cosiddetta solidarietà alimentare i finanzieri hanno passato al setaccio la documentazione relativa a cento cinquanta persone al termine sono state denunciate nove persone residenti in vari comuni rodigini che pur di ottenere l'accesso al beneficio hanno dichiarato falsamente di averne diritto autocertificando qualità proprie o dei propri familiari non rispondenti al vero ricevendo nel complesso somme per circa 90 mila euro incontro oggi tra il sindaco Roberto Di Piazza e il neo eletto presidente dell'associazione Giuliani nel mondo Franco Mignussi accompagnato da alcuni membri del direttivo il vice presidente Paolo De Gavardo il tesoriere Marino Predonzani e direttore Fabio Ziberna congratulandosi con Mignussi per la recente importante nomina di piazza ha voluto sottolineare il ruolo centrale dell'associazione Giuliani nel mondo che tiene sempre vive le radici con il proprio luogo di origine e che mantiene e rinnova costantemente i rapporti con tutte le numerose comunità di Giuliani nei vari paesi riconducendo spesso nella nostra città qui giovani figli di nonni e genitori che hanno lasciato queste terre per andare cercare fortuna altrove per l'associazione Giuliani nel mondo si apre uno scenario nuovo che deve guardare al futuro assecondando i cambiamenti dell'immigrazione per aiutare a mantenere uniti i corregionali nel mondo nell'epoca della pandemia che ha bloccato tutti nelle nostre città e costringe alcuni territori ad affrontare crisi veramente due l'ha sottolineato l'assessore regionale e corregionali all'estero Pierpaolo Roberti in occasione dell'incontro al palazzo della regione con i rinnovati vertici dell'associazione Giuliani nel mondo il servizio. Assessore dopo questo nuovo cambio di vertice per l'associazione Giuliani nel mondo quali sono le prospettive che la regione intende avere e fare a sostegno dei corregionali? Questo è un momento importante di una vita associativa di un'associazione storica compie 50 anni anzi li ha già compiuti 50 anni purtroppo i festeggiamenti sono stati rimandati all'anno prossimo dovuti al ovviamente all'emergenza pandemica ma è un cambio di direttiva importante perché come in ogni sodalizio quando si cambiano i vertici c'è sempre qualche momento delicato della vita associativa. La cosa positiva è che in questo senso quello scossone non c'è stato c'è un grosso una grossa continuità rispetto al passato un riconoscimento di meriti verso chi ha presieduto l'associazione negli ultimi oltre dieci anni anzi una persona Dario Locchi che voglio ringraziare che continua a mantenere un ruolo fondamentale all'interno dell'associazione come presidente onorario e oggi si apre uno scenario nuovo però che deve guardare al futuro pensando a come è cambiata l'emigrazione negli ultimi anni perché l'emigrazione di 50 di 100 anni fa è diversa rispetto a quella di oggi ma anche deve capire e deve guardare a come aiutare e come continuare a mantenere collegati i nostri co-regionali sparsi nel mondo nell'epoca della pandemia che stiamo vivendo che ci ha bloccati sostanzialmente tutti quanti nelle nostre città e nelle nostre case quindi saranno delle sfide sicuramente importanti da affrontare con questo nuovo direttivo guardando il futuro e guardando le nuove sfide che ci aspettano siamo con le spalle al muro siamo pronti a tutto così vladimiro tommasini presidente del comitato venezia lavora che conta 500 iscritti lavoratori provenienti dalle molteplici attività legate all'ambito portuale al suo indotto al mondo della croceristica a venezia porta bagagli ormeggiatori vetrerie tassisti gondolieri se non arriveranno risposte e sostegni agli oltre 1700 lavoratori tommasini ipotizza di mettere in atto azioni che creeranno un problema di ordine pubblico non siamo abituati a questo abbiamo sempre lavorato dice però se siamo messi nelle condizioni di farlo siamo pronti ad agire il problema ricordano tommasini e il vice presidente del comitato marco gorin non riguarda solo la pandemia ma l'annoso e insoluto problema del paesaggio e del passaggio delle grandi navi a venezia un'indagine condotta su un campione di oltre 2000 imprese venete di 11 settori di tutte le sette province dalla quale emergono indizi di ottimismo e vitalità ma che ha il limite di essere stata condotta in ottobre e dunque prima dell'arrivo del nuovo pesante pacchetto di restrizioni per questo veneto congiuntura il report trimestrale di union camere del veneto presentato oggi a padova dal presidente mario pozza e dal leader della camera di commercio di padova antonio santo cono si apre con l'immagine di una sfera di cristallo di giorno in giorno riconosce pozza e il sentimento degli imprenditori cambia la tensione è molta e per quanto possa essere puntuale tempestiva di fronte all'imprevedibilità del giorno dopo qualsiasi analisi rischia di non essere aderente alla realtà la giunta regionale del friuli venezia giulia su proposta dell'assessore alle finanze barbara zilli ha approvato in via definitiva la legge di stabilità 2021 la legge collegata alla manovra di bilancio 2021 2023 e al bilancio di previsione per gli anni 2021 2023 prosegue il percorso che porterà in aula la legge di stabilità e che oggi ha visto l'inserimento di nuove norme ha indicato zilli stiamo lavorando in un quadro di grande incertezza con dati congiunturali molto preoccupanti per la chiusura del trimestre per l'inizio del 2021 come risulta anche dai dati aggiornati dalla banca d'italia l'azione della giunta è finalizzata a rafforzare il sostegno al lavoro e ai comparti produttivi trieste è di qualità discutibile rompe la prospettiva dello sguardo verso il mare e incide arbitrariamente sull'equilibrio e sul paesaggio di uno delle piazze storiche più belle d'italia modificandolo in modo permanente un giudizio che accompagna la petizione avviata da alvise zanchi è promossa sulla piattaforma change punto org sottoscritta da oltre duecento due cittadini per invitare l'amministrazione comunale a rimuovere aria la scultura dell'artista stefano corticelli da piazza dell'unità d'italia la scultura è stata posata nella notte tra il 5 e 6 ottobre e inaugurata la sera dell'otto ottobre scorso domani sul friuli venezia giulia su bassa pianura e costa cielo nuvoloso con foschie sull'alta pianura e fascia prealpina da poco nuvoloso a variabile con più nubi a este in genere dal pomeriggio sulle alpi tempo migliore temperatura in pianura minima fra 5 e 8 sulla costa minima fra 10 e 12 le massime fra 13 e 15 gradi centigradi passiamo al veneto queste le previsioni per la giornata di domani sulle zone montane sereno poco nuvoloso sulle zone pedemontane sulla pianura in prevalenza molto nuvoloso salvo possibili parziali temporane schiarite durante le ore centrali durante le ore più fredde probabili foschie nuvi basse locali nebbie in pianura in qualche fondo vallo prealpino temperature minime in aumento in pianura stazionari sulle zone montane massime senza notevoli variazioni venti sulla pianura deboli con direzione variabile in quota deboli sud occidentali previsioni a cura di arpa fvg meteo e di arpa va agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del veneto per il momento dal nord est è tutto appuntamento alla prossima edizione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti